Sicuramente ho scelto Tornivana perché è un progetto nuovo e complizioso e tanto ha fatto i giocatori che erano già presenti e che sapevano che avevano già aderito a questo progetto nel momento in cui mi è stata proposta la situazione. Ma diciamo che sicuramente quest'anno ho parlato tanto con Claudio perché era difficile rifiutare un progetto del genere, però sicuramente il fatto di giocare nuovamente con Claudio in cui abbiamo condiviso un'esperienza fantastica che la posizione che stiamo con la Ventus ha un progetto. Sicuramente parlare di posizione non è scontato come sempre, ci sono tante squadre che si sono rinforzate sia nel Tiro Neste che nel Tiro Neste. quindi l'obiettivo è puntare al massimo e anche l'obiettivo non sarà facile finire la campagna di un correnza. Assolutamente ci si sta molto bene, la città ti accoglie bene, le persone ti fanno sentire la passione, senti tanto calore intorno a te per quanto riguarda la squadra, penso che siamo un bel gruppo nel partito con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare e questo è già un buon giudizio. Un saluto a tutti i tifosi di Portona, ci siamo già visti in occasione del primo raduno e speriamo di venire ancora di più durante gli amichevoli durante la campagna.